e allora siamo qui con Francesco in arte il collettivo che oggi ha il diplomatico che oggi ha suonato con il collettivo in conanco qui al Sherwood Festival appena finito eh sì proprio così buonasera buonasera a tutti e come è andata ma questo dovrebbe dirtelo il pubblico però a me sembra che sia andata abbastanza bene sì noi ci siamo divertiti tantissimo ecco vi dicevo anche prima è stata è stata veramente un'esperienza bellissima voi voi siete fantastici lo Sherwood la foresta di Sherwood è fantastica e non finirò mai di ringraziarvi quindi e allora sicuramente come ovviamente per tutti noi che lavoriamo in quest'ambito è stato un periodo complicatissimo per quanto riguarda fare i concerti eh a maggior ragione per per progetti come il vostro che comunque sono sicuramente eh necessitano di un certo tipo di ambiente eh non stiamo parlando certo di di cantautorato voce chitarra ecco ehm come avete passato questo periodo avete lavorato sì avete lavorato perché so che è uscito qualcosa da poco e quanto ha pesato quanto è bello adesso essere tornati finalmente allora è come tornare a camminare dopo tantissimo tempo è la stessa sensazione credo eh sì il collettivo Niconanco ha accusato tantissimo il colpo della delle restrizioni della pandemia abbiamo dovuto confrontarci ci siamo purtroppo confrontati con una realtà che non era semplice non era felice affatto felice e però diciamo che abbiamo sempre trovato il tempo di trovarci di provare di studiare nuove canzoni nuove armonie e questo anche grazie alla determinazione del collettivo Niconanco persone che non si sono arrese alle molte difficoltà dovute al al covid ma è stato bellissimo perché io propongo i testi propongo la melodia ecco diciamo che do l'input e poi loro ci lavorano su a casa magari ci ci perdono le giornate intere a a strutturare una canzone e poi arriva quello che avete sentito questa sera no? Senti ma avete mai pensato di scendere un po' a compromessi con il vostro genere per adeguarvi a quello che attualmente le regole impongono ovvero fare come hanno fatto tanti altri senza entrare nel merito del torto della ragione e fare qualcosa di magari più acustico più unpluggett allora questa è una bellissima domanda diciamo che io non lo considero scendere a compromessi suonare più acustico non a mio avviso eh mio modestissimo parere non è scendere a compromessi è solo adattarsi a un determinato pubblico a un determinato palco per me per noi la cosa più importante il messaggio che arriva al pubblico noi non siamo io presento sempre i nostri concerti dicendo che non siamo un un gruppo di musicisti comuni nel senso perdona questo termine banale generico ma non mi reputo una persona che punta a fare spettacolo e basta io punto a a dare un messaggio durante i nostri concerti e quella è la cosa più importante no siamo molto attenti al messaggio a come passa e a come passa questo messaggio come viene recepito anche nella struttura delle canzoni nulla è a caso nulla è per diciamo per guadagnare like sui social o consensi durante durante il concerto è solo finalizzato a un messaggio preciso e a proposito di questo questa sera abbiamo sentito tanti e svariati messaggi uno mi ha colpito particolarmente che è quello di cui hai parlato quando hai parlato della tua città di taranto parlando ovviamente della situazione che ormai da tanti troppi anni sta sta un po dilaniando l'aria noi abbiamo toccato più volte l'argomento in questo ormai quasi completato mese di di festival visto che abbiamo qui qualcuno che che può dire qualcosa diciamo da cittadino ecco se beh sì purtroppo sì purtroppo sono stato costretto a fare tra virgolette questa canzone si chiama due mari è una canzone che ho scritto quando sono tornato in puglia un sì penso due anni fa io ormai vivo a venezia da da tanto però sceso in puglia dalla mia famiglia mi sono sentito in dovere di fare questa canzone e non ti nascondo che l'ho scritta in penso dieci minuti proprio perché le parole purtroppo ti vengono fuori spontanee quando arrivi a taranto una bellissima città una bellissima città ma vedi le strade rosse di minerale o vedi la gente che sta male o vedi i cimiteri sempre purtroppo sempre più affollati è brutto da dire ma è così o gli ospedali sempre più più affollati di gente che sta male di bambini che stanno male allora lì sarebbe sarebbe un reato girarsi dall'altro lato no come me ci sono moltissimi artisti che parlano di taranto moltissime persone moltissimi cantautori di taranto che parlano appunto di questo disagio perché da noi è avvertito davvero come un problema troppo grande e da noi ci si sveglia la mattina e si respira quell'aria appunto cioè non c'è scampo è la cosa che mi fa davvero arrabbiare che fa davvero arrabbiare i briganti del collettivo ninconanco e che troppa gente ancora si gira dall'altra parte troppe persone che stanno diciamo che dovrebbero decidere delle nostre sorti lasciatemi passare il termine non se ne fregano un cazzo cioè preferiscono il denaro preferiscono il pil e la gente continua a morire e questa è una cosa purtroppo ancora troppo ignorata da alcune istituzioni senti noi vabbè adesso questa io lo so non te la volevo fare questa domanda perché immagino te l'abbiano fatta tutti e che sarei anche stupo di rispondere però avete scelto un nome così sì abbiamo scelto un nome volevi dire di merda vero no no in realtà sicuramente sicuramente azzardato benissimo questo è il termine da diplomatico ecco sei un vero e proprio diplomatico anche tu no allora il termine cioè perdonami il il nome di questo di questo gruppo è allora il diplomatico sarei io perché a mio avviso è lo simoro perfetto è lo simoro che mi rappresenta appieno uno arriva un nostro concerto diceva caspita canta il diplomatico si aspettano qualcuno di composto qualcuno di educato uno che misura bene noi termini le parole in realtà no io non ho troppo tempo per stare lì ad essere attento a misurare i termini le parole a mio avviso una persona che fa musica una persona che sale su un palco a un'ora un'ora e un quarto un'ora e mezza massimo per dire quello che pensa e lo deve dire in pieno cioè ed è questa la missione secondo me di chi sale su un palco e prende un microfono come diceva de andrea chi fa musica chi fa spettacolo chi esprime il proprio messaggio chi porta su un palco il proprio messaggio ha il dovere morale di esprimere il proprio pensiero e di schierarsi contro una società a volte malata e quello cerco di fare io poi il collettivo Nincoranko è una banda di scalmanati musicisti bravissimi a mio avviso che appunto prendono il nome da un brigante lucano che perse la vita durante l'invasione piemontese nel sud Italia opponendosi all'invasione appunto del regno delle due Sicilie e diciamo abbiamo voluto portare avanti anche questo nome che è un nome ormai dimenticato ma che noi stimiamo tantissimo in chiusura volevo farti due domande in una un po' opposte l'una all'altra forse la prima è so che come che la maggior parte degli artisti non amano un'etichetta da per quanto riguarda le classiche discussioni sui generi musicali che portano sul palco per voi credo sia impossibile darne una e allora quello che vi volevo chiedere è la base da dove da dove parte se ce n'è una in particolare o se ognuno di voi ha un po' un background musicale personale questa è la prima la seconda invece è sul futuro ovvero su quello che farete adesso a parte venire a Sherwood l'anno prossimo vi ringrazio allora vi ringrazio per l'invito anticipato quindi no allora diciamo che ognuno di noi parte da musica completamente diversa e secondo me questa è l'arma più forte del collettivo ninconanco no io parto da una musica da uno stile molto alla vinicio caposela se vogliamo dire ho ascoltato moltissimo di vinicio caposela di fabrizio d'andrè dei famosissimi cantautori italiani dei poeti brassin e anche francesi e mentre il collettivo ninconanco è un insieme di persone che ha un bagaglio culturale musicale impressionante cioè loro viaggiano da dalla dalla tecno al rock al punk e la cosa bella è che poi mettendo tutto insieme queste queste esperienze questo baga questi bagagli viene fuori una musica che non riesco nemmeno io ad etichettare molte volte ci chiedono ma voi che musica fate e io non riesco a rispondere perché dico e che musica facciamo non lo so non 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 lo so prossime prossimi progetti futuri tra dieci giorni parte il nostro tour il nostro tour estivo e in sud italia un tour desiderato tantissimo l'anno scorso per ovvi motivi non non abbiamo potuto fare questo tour ma quest'anno se tutto va bene partiremo da da qui da venezia passeremo da rimini andiamo giù in puglia taranto foggia bari brindisi e poi scendiamo giù per lecce poi andiamo in sicilia poi ritorniamo in campania quindi perderemo qualche anno di vita ma secondo me ci divertiremo un sacco e sicuramente farete anche divertire un sacco di questo grazie di questo francesco grazie mille e complimenti ancora per quello che avete fatto questa sera ma anche per per questi anni di musica grazie a voi grazie a sherwood veramente un grande abbraccio a tutti voi siete fantastici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti